Regola velocemente l'arco e il raggio di R-Van a mano. Basta spingere giù e ruotare il cappuccio in senso orario per aumentare l'arco fino a 270 gradi. Ruotando il selettore di regolazione del raggio in senso orario si incrementa la portata del getto. La concorrenza richiede un attrezzo speciale che si perde facilmente ed è difficile da usare. Grazie per la visione!